Si concluderà domani la diciannovesima edizione delle feste artusiane a Forlimpopoli, un'occasione non solo per mangiare bene, ma anche per riflettere sulla cucina. Giorgio Tonelli. Chissà cosa direbbe Pellegrino Artusi di questi tempi fatti di cuochi trasformati in star, di cucina stellata e televisiva. Lui che era un cultore della cucina popolare italiana, familiare ed affettiva. Ed anche su questo si sono interrogati alla diciannovesima festa artusiana a Forlimpopoli, città natale del padre della cucina italiana. Capatti, perché è tanto interesse oggi per il mondo della cucina e del cibo? Perché è un linguaggio praticabile assolutamente da tutti, senza controlli, senza regole prefisse. Se uno parlasse della religione avrebbe tutta una serie di precetti, ed i principi da rispettare. Se parla della cucina, niente. Dove va, a suo parere, la cucina italiana? Se io la guardo da fuori dall'Italia, vedo che sta schiacciando qualsiasi altro tipo di cultura culinaria. Sono preoccupato per le altre cucine non italiane. A Forlimpopoli gli appuntamenti culturali si mescolano con mostre, degustazioni e presentazione di libri, come questo sulla tradizione del maiale in Romagna. Dai salumi, ai cotechini, alla salsiccia matta, ai prosciutti, alle cotiche, alle coste, alle ossa, ai piedi, alle zampe. Tante le ragioni per esprimere gratitudine al caro vecchio porco.